Colpisce e indigna, io oserei dire, perché nuovamente Spinea, ricordo il fatto del 2010 di Roberta, che era già stata vittima di un delitto afferrato, nuovamente Spinea torna su rotocalco per uno spiacevole, un terribile atto criminale, un femminicidio. Visibilmente scossa la sindaca di Spinea, che non conosceva personalmente la coppia, ma l'ha definita, integrata nella comunità, ha voluto porre l'attenzione su un problema che ormai sta prendendo il sopravvento. Quando io definisco una questione di sottocultura, perché questi fatti potrebbero essere assolutamente preceduti da delle denunce che possono, grazie anche al Codice Rosso, tutelare una vita di una persona. Spinea, c'è una rete di protezione per le donne? Spinea c'è, abbiamo delle case famiglie collegate anche con Oale e con Mestre, e quindi assolutamente ci sono tutti gli strumenti per avere anche le tutele. Ovviamente il primo strumento è quello di informazione. A volte io leggo, poi anche da politico come donna, leggo veramente la banalità del rispetto di genere che viene relegata su una lettera. Sindaco, sindaca, architetto, architetta, ecco, questa è una favola che ci raccontiamo. Bisogna lavorare sulla cultura, lavorare sul rispetto, lavorare soprattutto sul rispetto della vita. Io credo, pensavo che anche l'esperienza pandemica in qualche maniera ci avesse, non dico maturato, però ci avesse così, avesse approfondito quello che è il rispetto perlomeno di una vita. Invece credo che assolutamente con l'andare degli anni le condizioni umane, sociale e di rispetto stanno peggiorando. Bisogna intervenire.